E' ammazzata. Che ha pulita la p***a? C'è raggio! Vedi, vedi, come si rallenta dopo. Sì, ripropiare nei costi di apetta, vedi, va bene. Vedi? Tu dovevi? Giovanni. Che ha il Giovanni? Tu dovevi? Non è vero, non è vero, non è vero. O, va bene, sono vero. E' un'altra parte. Guarda che c'è il c***o. Vedi, vedi, vedi? Vedi, vedi, vedi. Vedi, 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 vedi. Vedi, vedi? Vedi, vedi. Vedi, vedi, vedi. Vai, fai data, cazzo, dai. Vai Giovanni, saltala, saltala Giovanni, saltale, dai. Vai, vai. Bravo. Puglia, 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 puglia. No. Pulitissima la traiettoria. Puglia. Guarda. Quello che sembra più veloce. Io l'ho messo e funziona. Grazie mille. Questa è quanto si trova? no man, no man non è stato lento non è stato lento dai bellissima ancora toccato sono riuso D'ho riusci sottotitoli Sì 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 Vai Giovanni Sì 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 Sì